A donna Lorenzo e a don Mario, ecco perché loro lo hanno vissuto e ce lo mostrano cosa significa il Vangelo di oggi. Voi siete il sale della terra e loro in Brasile sono stati davvero questo sale che hanno dato sapore e senso alla vita di tanta gente, che hanno cercato di risollevare moltissimi di quelli che avevano bisogno in quella terra, con intelligenza e con cuore, domando tutto loro stessi. Come non vedere come sono la luce del mondo? Ecco come hanno dato luce a tantissimi cristiani là in Brasile, ma di riflesso potremmo dire anche qua, nelle nostre comunità, a Monteschino, a Porto Maniro, in Diocesi di Novara. Ecco, una luce che risplende sul mondo. E' come non dire che la confusione di questo Vangelo è vera, perché gli uomini vedono le vostre opere buone e rendano gloria al Padre che nei Cieli. E noi oggi siamo un po' proprio per questo, perché guardando le opere buone di Padre Mario e Padre Lorenzo, ecco, stiamo rendendo gloria a Dio, rendiamo gloria a Dio. Allora possiamo dire che oggi stiamo vivendo questa pagina di Vangelo, vivendo con lo stipulo che tocca a noi, ecco, Padre Lorenzo e Padre Mario hanno fatto l'altra parte. Adesso tocca a noi essere il sale della terra e luce del mondo. Ecco, uno con le sue caratteristiche, con le sue possibilità e anche con la sua fede. Ma questo è quello che il Signore ci si aspetta da noi, perché anche in portato a noi, coloro che ci vedono, che ci gustano, possono rendere gloria al Padre che è nel Cieli.